La cultura, la fantasia e la voglia di creatività non si fermano mai. La sesta edizione dell'Hydro Baskers Festival 2020 sarà online. Gli spettacoli si potranno vedere sui social conosciuti. Venite a trovarci virtualmente sabato 4 luglio dalle ore 10 sino a mezzanotte. Hydro Baskers Festival mente ed anima, insieme. www.hydrobaskersfestival.com Oh